Ciao a tutti, benvenuti e benvenuti in questo nuovissimo contenuto multimediale horror Infatti oggi è Halloween e per la vostra gioia andremo a reagire io e Dressy Deckard E tra l'altro saluta Dressy Deckard Ciao Ciao Un creepy horror short film Sicuramente mi cagherò addosso, infatti io mi sono messo le cuffie vecchie Così almeno evito di rompere le cuffie troppo costose Ma adesso direi di iniziare Ok Dressy Io sono a casa da solo ragazzi Ti sento un po' male Ti sento molto male Non è mai fatto apposta Per me è piccolissimo Per me è grandissimo Guarda qua c'è il giallo No io, no, 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 eh sì Aspetta, fammi abbassare un po' le cuffie Che è sta roba? Ok Secondo me mo dalle bende esce qualcosa di brutto Secondo me, io mi preparo Io mi preparo ragazzi, eh Che c'è? Che stasera? Non ha parecchio gustico Ma si sente più quel di, meno male Era un apparecchio gustico Notall No ragazzi Oh mangi Così comincio a sentire Però non capisco nulla Bandaggia io mo mi cago addosso eh ho la seconda testa però non parlo siamo usciti da questa situazione ti prego hai alcune allergie? c'è qualcuno che mi vuoi chiamare? tua mamma? qualcuno? non c'è qualcuno non c'è qualcuno ricordi cosa è successo? la notte? ricordi cosa è successo la notte? non c'è qualcuno si sto preparando io sto preparando secondo me ci vuole un pochino dici? si il niente bel paesaggio ciao bambina penso che sia lei che corre e mettere uno stabilizzatore mannaggia questa musica non mi piace no troppo che bella luna che c'è no allora è un po' troppo eh sto tremando eh lei che corre ma salve usa la maniglia no? effettivamente la maniglia c'è sta la vuoi usare? ok sono petrificata ok c'è la chiave brava c'è la chiave ok secondo me c'è qualcosa se c'è qualcosa se c'è qualcosa no allora 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 colpi dopo madonna no 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 se dobbiamo iniziare già così brucia la casa vatti una città brucia sta cavolo di casa sempre se sta in america oddio saluto come si può accendi ste luci che c'è pure della bolletta accendi meglio pagare un sacco di soldi che che morire morire per una cazzata questa è scema questa è scema posso dire che è scema posso dire che è scema posso? sì grazie non ci sta più no però con la faccia mi terrorizza eh io non dormo la notte ragazzi eh cioè ho capito che vado non so sudà finalmente un po' di luce ma che sta a faa? boh non si capisce boh non si capisce ah naggia la puttani ah ho rischiato di rompere gli occhiali eh no allora allora c'è un limite a tutto io penso ci sia un limite adesso c'è un limite a tutto? sì ecco bravo ma poi poi se ne è accorta ora che ci stava quello a psicopatico madonna santa porca guarda che occhi brava mo te ne se ne sa conto eh no madonna santa oddio non c'era davanti 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 di puro ma c'era davanti di puro ma c'era davanti mi abbassano le buffie eh vabbè ma stavolta non sembra fatto di carta quello ovviamente è solo un sogno è solo un sogno è finto è un film è solo un sogno eh è solo un sogno ma tolgiamo schermo c'è io sto non ho capito che sta ma il bello è che ma il bello è che ma il bello è che si vede pure piccoli io vedo 32 il bello è che si vede pure piccolo io vedo 32 pollici ragazzi io vedo 32 pollici di schermo con sto coso di no ragazzi ragazzi no no va bene tutto si comincia tazza il volume no 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 io lo passo pure io un po' allora buongiorno buongiorno allora se tu adesso non te ne vai dalle scatole forse non hai capito quello che è successo si ho capito praticamente ti dimostro che ho capito allora praticamente sta ragazza lo vedeva sempre quindi se è accecata e se tipo cercate dagli occhi che è una cosa bruttissima per non vederlo più annaggia 8 minuti e 46 quanto ci scommettiamo quanto ci scommettiamo questo c'è il jumpscare e poi sono diteli di coda quanto che è ok ok siamo ritornati al presente ma che è sta signora penso che sia la dottoressa ok ok adesso se ne va eh mo succede il brutto e mo succede il casino scommettiamo scommettiamo 3 euro che succede il casino mannaggia no ragazzi ragazzi ok 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 che è sta roba no non ti toglie la benda non ti toglie la benda non ti toglie la benda non te la togli non te la togli ti prego cura di prima non te la togli cambiati gli occhi cambiati gli occhi fatele fa il trapianto non 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 apri non ti azzardà ti azzardà ah porca p... no ragazzi dressi dite ma io no eh no io sto facendo davvero ok senza mani perché considera che io lo vedo allora faccio lo faccio per voi senza mani senza no guardo guardo si muove gli occhi rimangono attaccati dritti attaccati però che è sta suspense oh che è successo ma che è sta roba è finita ma è finita dada patata dada ne guardiamo un altro eh ne guardiamo un altro perché questo qua non ha fatto tanto paura perché questo qua non ha fatto tanto paura questo qua non ha fatto tanto paura ok ragazzi eccoci qua vabbè sempre di notte e lo gioco che già la musica è alta sta a vede i video nostri brava lei che vedi i video non si iscrivetevi mi raccomando ah sto giocando a switch chi è vabbè a lei non interessa ma che ci frega a noi no no forse ho già capito dimmi che non è così dimmi che non è così dimmi che non è così ti prego madonna io l'avevo detto che avevo già capito amica mia questo sarebbe bello però data la situazione mi sa che ti ucciderà un qualcosa di veramente brutto oppure spegne la prima brava bravo se lei continua a giocare si si ridi ridi lei si diverte alla finchè lei è felice lo siamo felici adesso non si ridi più che è successo secondo me sta a vedere qualcosa dentro lo schermo mi sa pure a me oddio adesso non ri di più cosa succede allora brucia quella nintendo switch bruciala comprate una nuova ma che famo si mette pure a dormire no 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 allora posso dire questo qua in confronto a tutti gli altri è il più pauroso del mondo ok ok secondo me sboga da nulla ma dopo prendi la nuova via la benzina brucia la casa fai quello che vuoi basta che bruci la casa non c'è davanti no no a voi che esco fuori cosa che sia offeso secondo me lei dovrebbe rispondere sì invece ha risposto no oggi oddio no allora c'era il limite a tutto asta che c'è un limite a tutta la sotto nei commenti stia no 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 noadd下面 a dio no no oh ciao a tutti di non no no and no 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 oddio oddio sei fottuta amica mia fattelo dire sei fottuta no 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 ok ok secondo me perché quello spavento ci ha fatto cliccare qualcosa sulla nintendo sicuramente avrà risposto a una domanda che ce l'ha fatto e sospesso per un attimo secondo me No, no, ti prego, no C'è andato Per ora Guardi che bello No, aspetta No Che è successo? Che è successo? Non va più, non va più Come non va più? Se ci fai caso Non si spegne più la luce dalla Nintendo E' vero No, aspetta, no, aspetta Ecco Ora vai sto più serio Non sto a coprire Perché non sto a coprire nulla? Porca puttana Possiamo giungere al termine ragazzi Non voglio più fare nulla Niente, possiamo giungere al termine Io salutavano gli incubi Sicuramente Quindi se il video è durato poco Non me ne frega niente Sicuramente non sarà durato poco Perché comunque sono filmati lunghi Iscrivetevi, mettete like E scrivete un commento con Hashtag C'è un limite a tutto Io vi saluto Lui qui saluta Adresi vi saluta E se va out Ciao ragazzi